ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua al lago qua abbiamo la serra oggi vi volevamo fare vedere il lago ghiacciato i cavolchiori non ci sono più perché purtroppo sono entrate le galline l'hanno mangiato e di qua c'è il lago ghiacciato poi di qua poi qua dietro c'è l'uscita di lago che è un po' da venire perché è piacciato proseguendo di qua c'è il bambù di pietro grazie a tutti qui c'è un pepe di bambù poi vi volevo chiedere scrivete sotto nei commenti se vi piace il nuovo logo del canale e il nuovo sfondo del canale qua abbiamo una pianta di pico lì c'è l'entrata del lago 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 come potete vedere qua c'è l'orto dove metteremo verso aprile l'insalata poi qua c'è il nostro prato lì c'è l'entrata del lago lì c'è l'entrata del lago quindi il video si conclude qua lasciate like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e come ho detto prima scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto il nuovo logo del canale ciao ciao iscriviti al canale